Lavori di adeguamento messa in sicurezza con la rimozione dell'amianto, ristrutturazione e manutenzione straordinaria, abbattimento delle barriere architettoniche o anche soltanto rifacimento di infissi, sanificazione e dotazione di arredi nelle aule. Si può dire che non ci sia scuola in provincia di Lecce che non necessiti di almeno uno di questi interventi. Scuole sicure come investimento sul nostro futuro è uno dei leitmotiv programmatici del Premier Renzi e sulla scorta di questo ecco arrivare fondi per 9 milioni e mezzo di euro dal piano di edilizia scolastica da destinare a 24 plessi in 15 comuni. Si tratta di asili e scuole primarie, tranne in un caso il tecnico commerciale Bachelet di Copertino. Da un minimo di 67.400 euro della scuola dell'infanzia di Surbo agli 850.000 della primaria di Carpignano-Salentino nella Grecia. Per permettere di aprire i cantieri è pronta l'aderoga al patto di stabilità per l'anno in corso e il prossimo, ma ci sono almeno altre tante scuole per cui l'anno scolastico tra poco più di un mese inizierà ancora in strutture malsicure e fatiscenti. La provincia fa quel che può, sottolinea il presidente Gabellone a fronte di tagli significativi. 14 progetti a 750.000 euro l'uno hanno segnato una tappa importante se pensiamo che solo 42 ne sono stati finanziati nell'intera regione Puglia. Nel comune capoluogo in corso interventi con fondi cipi a professionale Marconi, allo scientifico Banzi e in altri 10 istituti della provincia, ma non basta. Credo che il governo debba fare una riflessione importante sia per la edilizia scolastica sia per gli investimenti sulle strade perché sono due capisaldi su cui evidentemente gli amministratori hanno pochi margini per poter incidere.